Ciao a tutti, allora oggi Anna ha ricevuto un pacco, in un certo senso è un pacco regalo perché sicuramente ho una storia da raccontarvi, questa è un po' la mia storia privata, però penso che vi faccia piacere comunque essere partecipi e condividere con me questo momento e in un certo senso anche la mia visione olistica e la mia visione positiva di quello che è un mondo migliore e quindi cosa è successo? Solitamente io non rispondo mai a quei numeri che chiaramente si sanno, sono dei call center, non so voi, ma personalmente ricevo almeno, ma dico almeno, una o due telefonate a settimana in cui si presentano, parlo con Anna Senatore dopodiché ti cercano di vendere delle proposte commerciali soprattutto legate alla telefonia. Immagino che lo sappiate benissimo perché non penso di essere la sola, ma cosa è successo? Allora oggi è sabato, è successo mercoledì, no giovedì, è successo giovedì quindi veramente soltanto due giorni fa che ricevo questa telefonata e praticamente la voce e il modo in cui mi ha chiesto se fosse Anna Senatore addirittura ero convinta che fosse una potenziale cliente perché effettivamente si era posta in un modo totalmente differente anche proprio dal tono della voce e quindi l'ho ascoltata e non mi nascondo che quando mi ha detto che c'era un'offerta riservata a me perché c'era il mio compleanno e quindi sappiate la prossima settimana compierò 47 anni e in occasione del mio compleanno praticamente c'era questa proposta che avrei potuto accettare perché la cantina, aspettate che non me la ricordo Cantine della Corte che sono praticamente Cantine della Corte dove? Valdobbiadene, Treviso comunque praticamente avevano avuto tramite una partnership io avevo fatto un concorso nel 2018, non lo sapevo neanche, non me lo ricordo in cui io rientravo fra probabilmente la loro banca dati e c'era questa offerta e mi avevano chiaramente elencato la proposta vantaggiosa perché c'erano queste due bottiglie di vino di cui una millesimata e poi c'era la cosa straordinaria, più interessante vi posso assicurare che è stato un po' il punto diciamo di forza è stata una sorta di voucher dove io ho diritto ad una settimana di vacanza e io sono come dire ospite però paga il mio accompagnatore o la mia accompagnatrice quindi in realtà ho una settimana pagata ovunque io voglio andare e anche all'estero mi hanno detto posso anche considerare un volo, un trasferimento aereo e poi ci sono dei prodotti anche viso di questa stessa azienda che in pratica è come se io stessi pagando la crema mani, il contorno occhi, siero e mi sembra anche qualche altra cosa, mi sembra che sono tre prodotti e per 49,90 euro quindi diciamo 50 euro e adesso sono curiosa di vedere se c'è un pacco praticamente avete presente quelle truffe dove 49,90 euro e poi ti trovi in effetti è leggero cioè non vi nascondo che il peso considerando due bottiglie di vino mi lascia un po' per pesta, forse sono quelle mignon adesso lo scopriremo e comunque questa è l'azienda quindi eventualmente si comportasse male eventualmente si comportasse male io chiaramente in diretta posso menzionare ecco la truffa però sapete come per il portafoglio ho la certezza che invece tutto vada per il meglio e che questa sia una bellissima se vogliamo offerta regalo perché con 50 euro porto a casa secondo me un valore quantomeno di 200 euro più o meno la signorina ha detto questo, le credo perché le creme viso tra l'altro con questi semi di vinacciolo quindi un nuovo ritrovato legato alla cosmetica allora metto in pausa perché ho dimenticato di prendere chiaramente un coltello delle forbici ci vediamo fra un po' aspetta eccomi qua allora sono tornata con le forbici e fra l'altro ho la bolla che ho filmato e mi dicono che praticamente ho un Nambash Siria belluto nero vino varietale con uno spumante millesimato regale ah sono 75 cl quindi in realtà è almeno un chilo e mezzo ma è leggerissimo questo pacco a meno che non ho io i muscoli poi abbiamo la carte viaggia in due per uno la crema mani con le cellule staminali dell'uva la crema viso anti-age sempre le cellule staminali uva e il siero viso e contorno occhi anti-age sempre con questa formula anti-age delle cellule staminali dell'uva quindi apriamo il pacco allora vediamo un po' direi che queste sono le proposte dei loro vini sì e immagino sia anche un po' un biglietto da visita per farsi pubblicità e quindi devo dire il millesimato non è proprio fra i miei vini preferiti però è sicuramente questo lo tiriamo via allora questo sarà il millesimato sì allora c'era in effetti c'era e poi questo è il vino nero lo assaggeremo perché questo sicuramente mi piacerà e poi eccolo qua il pacchetto regalo con le creme belli anche i dispenser molto elegante bianco e oro ecco direi che lo proviamo anche subito sebbene se riesco ecco qua questo è il siero allora l'odore non è proprio diciamo fra i più gradevoli e comunque dovrebbe funzionare quantomeno come effetto anti age adesso vi vedrete tutta l'infurtata fra due settimane quando finiranno i prodotti non mi riconoscerete più però la cosa che mi interessava di più che non vedo ecco cioè praticamente quello che io più desideravo in realtà non c'è che è il buono quello due per uno parte in vacanza due per uno a meno che non sia da qualche altra parte però direi che farò una telefonata e chiaramente la farò in diretta adesso sono passati già più di sette minuti direi che ci aggiorniamo con un prossimo video in cui ascolterete la telefonata e del perché non mi è arrivato il voucher ok ciao ciao sono ancora qui perché ho tolto via questo e ragazzi oddio che c'è l'altro guardate cosa c'è qui sotto wow e c'era oddio è bellissimo questa cosa io adoro la vita perché fa queste sorprese e immaginate se telefonavo e loro mi dicevano ma no ve l'abbiamo dato invece era proprio sotto non so perché l'abbiano messo sotto un'altra scatola e quindi direi viaggi in due al prezzo di uno complimenti ah c'era anche un buono sconto me l'ero dimenticato in effetti per i prossimi acquisti aspetta metto gli occhiali allora per i prossimi acquisti vale per un minimo di 24 bottiglie a sua scelta dal catologo completo e quindi posso inserire questo codice chiaramente prima assaggerò il vino poi vi dirò se mi è piaciuto e quindi ho ulteriori 50 euro di sconto e questa cos'è una una carta con questo codice e direi che poi vi farò sapere in quale parte del mondo avrò deciso di andare in vacanza quest'estate anche se solitamente le mie vacanze sono viaggi di ricerca e quindi sono un attimino differenti e quindi questo invece è rituale mattino e sera trattamento anti-age senza siliconi senza parabeni senza petrolati senza sls non so cosa siano ma sicuramente meglio che non ci siano senza alcol etilico e senza coloranti quindi direi facciamo pubblicità perché a questo punto direi che se la meritano io proverò i loro prodotti oddio vi sembro un influencer no oddio direi che non era proprio mia intenzione essere questo anche perché nella mia vita preferisco in un certo senso trasmettere il mio sapere antico però direi che io quando mi trovo bene la pubblicità di solito la faccio e direi che vi saluto con un bacio e un abbraccio cosmico ciao ciao